L'Italia è un paese dove mancano investimenti e politiche d'ampio respiro e si parla un linguaggio imbarbarito e arrogante. L'analisi del Cardinal Bassetti non fa sconti a nessuno. Assemblea straordinaria dei Vescovi italiani al Via in Vaticano oggi con introduzione del Presidente Cei. Non c'è solo la fragilità idrogeologica delle ultime cronache, dice Bassetti. Parla di smottamento sociale a causa di fragilità di cultura e valori. Denuncia le caricature dei media come se la Chiesa fosse interessata solo a difendere privilegi e tornaconti. E altro che ci preoccupa replica. Lavoro per i giovani costretti a emigrare per immaginarsi un futuro, un ripensamento della legge di cittadinanza per i nuovi italiani, un uso corretto e trasparente del potere. Perché la crisi economica si fa ancora sentire pesante, fra precarietà, infelicità e rancore sociale in aumento. Ma se l'Italia ammonisce Bassetti, rinnega se stessa, i suoi valori e la democrazia, un'Italia di riserva non c'è. Se si sbagliano i conti non c'è una banca di riserva che ci salverà, né un'Europa di riserva contro il rischio dei nazionalismi. In agenda fino a giovedì, dopo il dibattito sull'attualità italiana, l'approvazione del nuovo messale, con modifica forse già ampiamente discussa al non indurci in tentazione del Padre Nostro. Poi linee guida per la tutela dei minori nella Chiesa, dove pesa, dice Bassetti, una cultura dell'autorità che esclude dalla partecipazione, specie ai giovani, e a volte diventa anche abuso.